Mi chiamo Lorenzo Dell'Oro, ho scelto di lavorare in questo bar perché sono un tifoso dell'ECO quindi comunque seguivo il calcio prima di questa opportunità di lavoro. La trovo un'attività comunque semplice perché non ci sono tanti cibi diversi da vendere ma sono quelle 20 cose diverse con i prezzi fissi che possono aiutare a iniziare a cominciare a lavorare e è un'attività che servirà comunque per il futuro perché è un'esperienza utile per relazionarsi col cliente e cominciare a lavorare in un bar.